Robusto campo di alta pressione sull'Europa centro-occidentale, con condizioni di tempo stabile sul centro-nord della nostra penisola, mentre al sud continuano ad affluire masse d'aria più fresca e a tratti instabile proveniente dai Balcani. In Toscana, mercoledì 27 febbraio poco nuvoloso per transito di velature con schiarite più ampie dal pomeriggio, al mattino addensamenti di tipo basso e foschie sul litorale settentrionale e valdarno inferiore. Venti deboli variabili, moderati di maestrale dal pomeriggio su Arcipelago e localmente sulla costa centro-meridionale, mari poco mossi dal pomeriggio localmente mossi a largo al sud dell'Elba e sul litorale centro-meridionale. Temperature minime in calo, massime stazionari o un ulteriore lieve aumento al sud con punte di 20-21 gradi, 7-8 gradi superiori alla media del periodo. Sul territorio provinciale da velato fino a poco nuvoloso o sereno, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 3, massima 20 gradi, a Castelnuovo-Garfagnane zone montane minima 1, massima 19, a Viareggio sul litorale minima 6, massima 18 gradi, giovedì generalmente nuvoloso con temperature minime in aumento. Grazie a tutti!